Che cosa c'è nella società che ti delude tanto, me lo puoi dire? Oh, no, 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 no. Forse è fatto che tutti pensiamo che Steve Jobs fosse un gran uomo che dopo aver saputo che ha fatto miliardi sulla bella dei bambini. Oppure che ormai sappiamo che tutti i nostri eroi sono dei falsi. Tutto il mondo non è altro che un imbroglio. Ci spammiamo l'un l'altro in tere cronache su delle stronzate, mascherandole da opinioni, usando i social media come sorrogato delle intimità. Forse abbiamo votato perché fosse così. Non con le elezioni, ma con le cose, le proprietà, i soldi. Non è una novità, sappiamo perché lo facciamo. Non certo perché i libri di Hunger Games ci rendano felici, ma perché vogliamo essere sedati. Perché fa molto male, non fare finta. Perché siamo dei totardi. Fa un corso sedato. Ehi, perché non parli. Che cosa c'è dentro? Niente.